La Fondazione San Giovanni Battista ha presentato al Vescovo Paolo Urso il gruppo di volontariato internazionale che in queste settimane, fino al mese di ottobre, opererà presso i centri della rete SPRAR gestiti dalla Fondazione in provincia di Ragusa. I volontari appartengono alla comunità di vita cristiana, promotrice con la CVX europea del progetto Migranti per l'accoglienza e il sostegno degli immigrati dal Nord Africa. Il progetto prevede appunto il coinvolgimento in Sicilia e a Ragusa di giovani provenienti dalle CVX di tutta Europa. La prima cosa da fare quando ci si trova di fronte a fenomeni particolari è quello di conoscere, non per sentito dire, ma vedere, rendersi conto personalmente e soprattutto fare in modo che queste situazioni che sono situazioni di emergenza diventino situazioni che possano essere gestite in maniera sempre più intelligente e più rispettosa della dignità di ogni persona. Questi ragazzi e queste ragazze vengono da diversi paesi d'Europa, sono il segno di una volontà di conoscere direttamente ed è bello perché è un'esperienza che intanto permetterà loro di conoscere qual è la condizione di questi richiedenti asilo, di questi profughi, ma diventa anche per i profughi un segno che vengono rispettati, così come ha diritto ad essere rispettato qualunque persona umana, qualunque sia la sua situazione, da qualunque paese venga. Per cui realmente questo è un momento di crescita, di civiltà, di costruzione di rapporti dignitosi, rispettosi e riccamente umani, per cui sono contento anche se non riesco a comunicare con questi giovani in maniera diretta perché parlano lingue diverse che io non conosco e quindi ho bisogno di chi mi traduca, ma anche per me diventa bello vedere questi ragazzi che lasciano certi loro posti tranquilli per venire qui a condividere l'esperienza di tanti profughi e di tante richiedenti asilo. I nostri volontari attualmente vengono dalla Spagna, dal Lussemburgo, Austria e Germania e questa cosa ha molto incuriosito gli ospiti dei diversi centri dove andiamo ad operare perché si sono subito domandati come mai qualcuno che viene da un paese più fortunato del mio che si interessa a me e questa cosa ha creato anche in loro la curiosità di chiedere com'è la vita nel loro paese, se ci sono possibilità di lavoro, se la Germania non so perché è molto ambita nonostante il freddo, la lingua ostica e tutto quanto e i nostri volontari anche sono molto contenti perché appunto possono conoscere delle realtà che solo vagamente potevano immaginare e scoprono persone che hanno i loro stessi interessi, ascoltano la musica, ballano e è molto bello. Per quanto mi riguarda personalmente mi riporto indietro a un'esperienza lavorativa che ho avuto un paio d'anni fa a Bergamo e rivivo in loro le stesse ansie, le stesse paure che avevo di posso fare questo, posso dire quello e la ricchezza che loro si porteranno a casa e che già stanno sperimentando è veramente tanta.